Musica Migliaia di licenziamenti in vista, è preoccupato il consigliere comunale Massimiliano Pignoli per la situazione di Pescara e non solo? Sì, ho espresso il mio pensiero qualche giorno fa su Facebook quando praticamente all'ultimo è stato tolto dal ristoriter il blocco dei licenziamenti che praticamente dal primo luglio tutte le aziende potranno licenziare. Spero nel Parlamento che si possa addivenire ovviamente una soluzione e rintrodurre la norma perché altrimenti ci ritroveremo noi del Comune ad essere assaltati da centriani cittadini in cerca di occupazione perché poi le persone non vanno a Roma, non vanno né in prefettura, non vanno in provincia, non vanno in regione, vengono in Comune dove bisogna ovviamente risolvere tutti i problemi considerando anche che il trasferimento non esiste più dallo Stato ai Comuni quindi ci troveremo in grossa difficoltà soprattutto il sottoscritto che da sempre ha fondato la sua azione politica verso gli ultimi e verso ovviamente i bisogni delle persone. La situazione a Pescara com'è? La situazione a Pescara è grave come penso in tutta Italia, è grave considerando anche lo sfruttamento delle persone perché mi giungono notizie di persone che vanno presso i stabilimenti balneari o presso i grandi alberghi a Pescara, non faccio i nomi per una questione di privacy dove per 12 ore di lavoro gli sono state offerte soltanto 30 euro e quindi come vedete non è che il problema che è uscito fuori da alcuni quotidiani la scorsa settimana che manca la mano d'opera, mancano gli schiavi a questo punto, non manca la mano d'opera. Grazie per aver guardato il video!